Senti, ti devo fare una domanda che sembrerà banale, ma non è. Io e Stefano, sai, ci prepariamo molto prima delle... Non c'è niente a ridere, ve lo dico proprio con tranquillità. No, è una delle domande che fanno a quasi tutte le persone che hanno un nome d'arte, anzi a tutte le persone in tutte le interviste, è Ma il nome... Esatto, allora te l'hanno già chiesto mille volte, Però a me interessa sapere, io tipo quando penso... Io poi leggendo l'intervista ho detto, ah proprio come pensavo, Fulminacci viene dai fumetti, come esclamazione fumettistica o cartonistica, nella mia testa suona come se la dicesse mangiafuoco, anche se non l'ha mai detta, ti dico come la dico io, ogni volta che adesso parlavo con la mia ragazza e dicevo devo fare la puntata Fulminacci, poi facevo Fulminacci! Sì, 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 sì. Quindi nella mia testa suona così, nella tua testa quando l'hai scelto come suonava? Allora, quando l'ho scelto non sapevo che fosse un'esclamazione dei fumetti anni 60, quindi non pensavo che fosse una specie di tipo bestemmia in versione per bambini, alla fine è questo, è aciderboli, accipicchi, è tipo quella roba là, lo diceva Tex, Braccio di Ferro e altri, lo dico per chi non lo sapesse, chiaramente voi lo sapete se vi siete preparati appunto, come mi hai detto. Fino a qua, da qui in poi. E quindi musica, hai detto, no? Musica. Sì. E vabbè, in realtà non, cioè, è una cosa che non è che proprio fosse per me primaria, è solo che mi sono un po' sentito in dovere, in realtà, forse la società in cui vivevo mentre dovevo propormi mi imponeva in qualche modo un nome d'arte, ma alla fine l'avrei pure bypassata questa cosa. Però siccome, poi me ne sono scelto infatti uno che avesse, in qualche modo, racchiudesse il mio cognome e il mio nome, perché io mi chiamo Filippo Uttinacci, quindi a me mi sembra comunque, se dici Fulminacci, che mi chiami però velocemente. Sì, se fa una crasi e via. Una crasi. Senti, ma allora... Che poi, se poi lo puoi cambiare in corso anche. Lo posso anche cambiare. Molti cantanti lo fanno. Ah sì? Però non si capisce più come... Sì, tipo Puff Daddy, poi è diventato... Pd, sì. Che pure sembra una bestegna per bambini, tra l'altro. Sì, vero. Se ci penso. Sì, beh, per restare in Italia, bello figo, era... Perché prima c'era Gucci nel nome, poi l'ha dovuto cambiare. No. Però bello figo, vabbè, talmente iconico. Sì, forse, diciamo, non ti mettono pressione per il disco, ma se domani scrivi all'etichetta, cambio nome, ti arriva una telefonata. Prima devo fare il disco che si chiama Col mio nome proprio, come fanno tutti. Ah. Non c'è il disco che si chiama Filippo. Certo, bravissimo. Quindi è come quando si fa il passaggio da band a solista, allora lo puoi fare, però te puoi dire, ah, non sono più nei fulminacci, potrei renderla così. Esattamente, perché era un progetto... Un progetto. Tipolo in realtà, me lo invento al momento. Adesso sono solo io. Sono solo io e faccio questo disco in cui parlo a me... Pippo, in cui parlo a me stesso da bambino, perché... È fatto. Merito tanto conforto. Il progetto del 2027 messo in cascina. A posto. Messo in cascina. Bellissimo. Senti, allora, visto che ti sentisti in dovere di darti un nome d'arte quando hai dovuto definire quello che stai facendo, quando è successa questa cosa? Perché poi tu, come si suol dire, sei giovane, cominciasti da giovane, perché... Cioè, per entrare all'interno di cosa? Di quale meccanismo hai detto? Io sono fulminacci e voglio suonare dove? Eh, dove non lo sapevo, in realtà, perché non capivo niente dell'aspetto musica dal vivo, cose, serate, di gente che suona. In realtà ero al di fuori di questi contesti e facevo tutto a casa... È uno di quelli da cameretta, diciamo, che è tutto un altro filone, forse, non lo so. Quelli della cameretta e io facevo le cose a casa, da piccolo, su GarageBand e mi facevo le mie canzonette. Però comunque non ci credevo tanto. Cioè, i miei amici non sapevano, quando io sono uscito col primo singolo, non sapevano che io scrivessi canzoni comunque, perché mi vergognavo molto della cosa, perché mi sembrava, soprattutto cantare, una cosa molto imbarazzante. Poi io ho un po' rotto il ghiaccio, perché sono uscite le cose e ho dovuto fare finta di saper fare questo lavoro e poi, ora lo sto un po' imparando. Però la prima volta io dovevo fingere di essere a mio agio. Immagino, perché tu dici, è vero, ci si vergogna a cantare, poi tu alla fine hai fatto il lavoro, però è una cosa che ti mette... Ne parlavamo un'altra volta, anche solo tipo, mentre cammino per strada a canticchio e passa qualcuno e mi sente a canticchio, penso, vabbè, allora preferivo se mi vedevi che stavo cagando. Sì, uguale, o comunque uguale, stessa identica cosa. Ok. Infatti, come fai? Nel senso, dire adesso canto e lo faccio sentire a qualcuno, cioè tu l'hai messo online e quindi dici... No, è stato proprio pubblicato già per la prima volta in modo ufficiale, quindi tramite etichetta, facendo tutto il percorso, quello con etichette, che chiede alle etichette se ti vogliono, e poi io c'ho la fortuna che... Ah, infatti questa parte, quindi tu sei andato all'etichetta dicendo io in cameretto ho fatto questo, vi piace? Facendola breve, sì, nel senso che poi io conoscevo una persona che mi ha reso possibile questa cosa, perché mi ha praticamente... una persona che io conoscevo per motivi personali in realtà... Matteo Messina Denaro? Matteo Messina Denaro. L'avevo letto in qualche intervista. Esatto. Io praticamente sono andato da Matteo Messina Denaro e gli ho detto io scrivo delle canzoni. In cameretta. Sì, sì, esatto. Lui in siciliano mi ha detto delle cose. E ho detto Matteo, io scrivo delle canzoni, ascolta le se ti va. E lui mi ha detto va bene, quando ho tempo le ascolto. Poi le ascoltate, gli sono piaciute e quindi con i suoi contatti è riuscito a distribuirle alle varie etichette. Una di queste, cioè Maciste Dischi, che è la mia etichetta, le ha apprezzate e quindi, insomma, grazie al boss, come lo chiamo io, tutto questo è stato possibile. E scusa, e poi... In realtà il nome di questa persona è Andrea, che saluto con affetto. Salutiamo Andrea Messina Denaro. Figlio. L'erede. Tra l'altro... Che gli fanno sempre la stessa domanda. da parente... E lui poi... Nome d'arte, anche questo. No, ma scusa, quindi tu sei uscito online, sei uscito distribuito, e poi i live, cioè una volta che esce con la distribuzione, anche i live non parti proprio con cinque persone in avanti. No, esatto. Infatti ho avuto anche quella fortuna lì, cioè che sono uscito, che già era stato fatto tutto un discorso a riguardo, quindi una serie di movimenti di cui io ignoro la natura, che rendono possibile l'ufficializzazione di una cosa, con cui io mi sono già presentato come qualcosa di strutturato. Questo è stato una fortuna, nel senso che mi si è creata tutta una squadra, cioè quelli che organizzano i concerti, quelli che distribuiscono, erano già tutti pronti, e poi mi sono presentato. Quindi ho avuto modo di cominciare già con tutta una squadra impostata. Ok, scusa, però a quel punto hai i primi live, quindi con una squadra impostata, una sorta di spinta, comunque di presentazione. Quanto ti sei cagato sotto? Tantissimo comunque, a largo venue, che forse è anche qua vicino, mi viene da pensare. Comunque in questo quadrante. Comunque in questo quadrante. In questo quadrante. Tu vieni da tutt'altro quadrante. Io vengo da Roma Ovest, quindi per me questo è tutto un grande... Sì, sì. Un grande... Tutto frascati qua. Sì, tutto frascati. Questo è frascati, metro C, questa. E non mi ricordo più. E quanta paura hai avuto ai primi live? Ah, sì, tantissima. Appunto, come dicevo prima, dovevo fare finta quella sera di saper fare questo lavoro. Perché comunque era la prima volta che facevo una cosa così seria con la band. Comunque avevamo fatto le prove. Però dovevo dire, ok, io faccio questo lavoro, voi siete qui, avete anche pagato, quindi io devo essere bravo stasera. Deve sembrare che lo so fare. E quindi mi sono sforzato di fare finta di saperlo fare. Poi alla fine è andato molto bene come risposta di pubblico. Io sicuramente ho avuto le mie defiance. Però il pubblico era contento, erano tante persone, quindi sono stato contento. Non poteva andare meglio comunque. E poi la paura è sparita così dopo la prima volta? Oppure la sei portata dietro un po' di volte? Dicevi... La paura è rimasta, però ho adottato una tecnica molto interessante che consiglio. Praticamente nel tour che ho fatto l'anno scorso abbiamo fatto delle coreografie. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Cioè lavorare con questa coreografa che ti dà praticamente delle azioni, no? E quindi tu, anche se quel giorno sei triste, comunque in quel momento sembra che sei molto contento perché stai facendo dei movimenti, ma anche se non sono dei movimenti estremi da ballerini, però appunto stare sul palco in un determinato modo con una determinata qualità fisica ti permette di mettere da parte un po' di anzi e dire, ok, il mio modo di esprimermi emotivamente in modo fisico è questo, non importa che è una sceneggiatura, perché tanto non importa, è uno show, ok, è tutto finto. Quindi poi diventa comunque vero invece e quindi mi trovo lì l'energia positiva, vera. Io non sono uno che riesce a esultare in modo molto istintivo, quindi grazie alle coreografie sono riuscito a esprimermi sul palco con più libertà, in realtà. Grazie a cosa. Quindi puoi avere la faccia scazzata, però fai un ballo. Tante volte è successo che magari c'era poco tempo per fare il soundcheck quindi erano tutti un po' scazzati, però in quel momento sembriamo tutti molto più fomentati di quello che siamo perché stiamo facendo una cosa tutti insieme e quindi sembra che è un momento incredibile e poi effettivamente viene un momento bello perché poi alla fine ho imparato sta cosa che per ottenere un risultato emotivo non è brutto attuare delle strategie perché c'è tipo il cantante che guarda questa cosa me l'ha detta Niccolò Fabi che l'ho conosciuto da poco Lo salutiamo un amico, un fratello è persona splendida Presidente mi ha detto questa cosa che se tu guardi il cantante è più bello e più convincente quando guarda magari la luce in fondo che c'ha questo sguardo intenso che sembra chissà che sta facendo di incredibile se io guardassi tutti così tutto il tempo mentre canto cercando di instaurare un legame importante con tutti voi sembrerei semplicemente un disagiato un insicuro e quindi con la strategia di guardare lì si ottengono dei risultati emotivi veri validi in quanto emotivi questa è una cosa che mi ha colpito vedi questo sì no io volevo fare un attimo un passo indietro perché tu appunto hai detto che è già dato a qualcuno un disco già fatto praticamente sì c'è fatto dei provini fatti in casa sì però c'è no scusami di che parli della parte in cui sono uscito sì ah no allora sì no già era tutto sì sì però c'è cosa che ti dice cioè che ti fa dire oh ma io so cantare fammi provare a fare sta cosa cioè quando è che ti rendi conto che se appunto poi ti vergogni insomma di dirlo agli amici qual è la cosa che ti dice io sta cosa la so fare e la posso fare e la posso registrare addirittura comunque sono passato per la fase in cui qualcuno me l'ha detto comunque mi ha incoraggiato che erano la mia fidanzata e i miei genitori mio fratello cioè le persone più vicine che hanno sentito le cose perché a un certo punto con loro gli ho detto cioè gli ho detto guarda c'ho queste cose e loro mi hanno detto ok fallo perché secondo noi a noi ci piace quindi a quel punto ho trovato anche un po' di fiducia perché se no proprio ignoravo per me non era neanche pensabile la cosa e invece poi comunque ci sono riuscito perché loro mi hanno detto no fallo provaci grazie a tutti Grazie.